Allora ragazzi, intanto vi saluto a tutti, saluto a tutti i miei 306, erano 306 e adesso sono 303, non so e non capisco il motivo per che la gente si disiscrive. Vuoi salutare i miei 303 iscritti che fanno parte del mio team, noi siamo un team, il Team Pix siamo. Volevo farvi un saluto e volevo fare un annuncio ragazzi che purtroppo, purtroppo, adesso ve la spiego bene, su Youtube purtroppo va avanti gente che non merita, va avanti gente che lecca il culo, io il culo non l'ho mai leccato a nessuno, però purtroppo chi merita purtroppo non va avanti. Questo è la piattaforma Youtube e a me dispiace perché io ho fatto quasi un 300 passavideo e c'ho 303 iscritti, ma a me non me ne frega un cazzo, io sono contento dei miei iscritti e sono contento del mio team perché io ho scoperto voi, siamo una cosa sola e questo mi dà forza. Ragazzi, però avete saputo sia da me che da Marco che io usufruirò di più Instagram e non mi vanto perché ho 11.000 follower, perché i miei 11.000 follower su Instagram sono il frutto di un lavoro di un anno, che me li sono sudati e guadagnati. Purtroppo su Youtube questo non accade perché Youtube è una piattaforma che non ti aiuta a crescere, è una piattaforma che ripeto vanno avanti solo chi non merita e non va avanti invece chi dovrebbe meritare di andare avanti. Io ho sempre fatto video su calciomercato, ho sempre dato delle notizie, anche pur essendo diverse dagli altri, però ditemi chi ha dato Kulusevski alla Juve, che nessuno sapeva, nessuno sapeva e io ho dato Kulusevski alla Juve, ho fatto un video e dopo mezz'ora sui giornali, sui social e su tutte le testate giornalistiche è uscito Kulusevski alla Juventus. Però questo non viene apprezzato, vengono apprezzate solo le puttanate che raccontano in giro. Poi ragazzi, se arriva Pogba, se arriva Tizio, Kaya, Sempronio, non fate i fenomeni, non vi iscrivete e non mi date ragione, perché vi ci manda a fare in culo. Quindi ragazzi, ripeto, userò Instagram, farò delle dirette con Marco, anche Marco ieri ha fatto un video su YouTube dove ha spiegato la cosa, ci saranno delle dirette dove parleremo di calciomercato di Juventus. Ci saranno delle novità e sorprese che io so già, però me le tengo per me e non dico nulla. Però poi i video e le dirette li pubblicheremo su YouTube, perché tu su Instagram, la diretta su Instagram è per 24 ore e poi si cancella. Però puoi salvarla e puoi pubblicarla su YouTube. Faremo questo, perché ci saranno delle sorprese. Io so già delle cose, però ho promesso che non dico niente e io non dico nulla, perché non sono un qua 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 che va a dire in giro i cazzi degli altri. Io le cose me le tengo per me, perché poi ragazzi c'è tanta ciccia e fuoco su Instagram, ragazzi. E niente, ho deciso di andare su Instagram, di continuare il mio cammino su Instagram. Su YouTube farò gameplay, vi mostrerò i giochi nuovi, vi mostrerò i trailer. Andrò avanti così per un po'. Farò anche dei video dove darò notizie di mercato, però ragazzi, se volete seguirmi, ma soprattutto seguire Marco e Mati Zebrati che ha aperto il canale Instagram due giorni fa, vi metto il mio link, quello di Marco, il mio account, quello di Marco, così andate a sbirciare, se vi interessa vi iscrivete. Quindi ragazzi, a me dispiace, perché io sono uno che non si rende mai e io non mi arrendo. Io vado avanti per la mia strada, non vado a leccare il culo nelle dirette degli altri. Se ho voglia, entro, se non ho voglia, sono lì a scrivere. Anche perché, ripeto e ribadisco, secondo me c'è gente che va nelle live degli altri per farsi visualizzazioni iscritte. Io non mi vergogno a dirlo. Io ci metto la faccia e se qualcuno ha qualcosa da dirmi, me lo scriva nei commenti e poi rispondo. Io non ho paura, ragazzi. Io dico le cose in faccia e le cose come stanno. Questa è la realtà di YouTube. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, non sparisco. Se volete scrivere, a me farà piacere, ma tanto io non lo dico più perché non me ne frega più un cazzo. Io sono contento, ripeto, del mio team e vado avanti col mio team. Ragazzi, se volete fare un saluto su Instagram da me o da Marco dei malati zebrati, vi metto l'account sotto il video. Quindi ragazzi, io vi saluto, saluto il mio team, vi do un bacio enorme e come sempre, fino alla fine, forza Juventus. So una notizia che non posso dire, che non posso dire. Non la tengo per me, lo promesso. Io non sono uno che va a raccontare le cazzette degli altri. Niente ragazzi, io vi saluto, buona serata e noi ci vediamo alla prossima. Bella.